Si è svolta martedì sera, con un'ottima affluenza di pubblico, nella scuola primaria Collodi di Acquaviva, la cerimonia di inaugurazione di Senza Zaino. Senza Zaino per una scuola comunità è un nuovo modello didattico, ideato durante i primi anni di questo secolo dal professor Marco Orsi. Alla rete di gestione del progetto, la scuola Collodi, tra le prime in Puglia, ha aderito tre anni fa ed oggi sono coinvolte cinque classi di scuola primaria, tre terze e due prime. A partire da quest'anno, il progetto è stato allargato anche a cinque sezioni della scuola dell'infanzia, facenti parte sempre dello stesso istituto comprensivo, il Caporizzi Lucarelli. La cerimonia di inaugurazione ha visto, tra gli altri, la partecipazione della professoressa Daniela Pampaloni, referente nazionale del progetto, della professoressa Maria Paola Pietropaolo, referente regionale, e del sindaco di Acquaviva, il dottor Davide Carlucci. Momento apicale della serata è stato lo scoprimento di una targa all'interno dell'androne d'ingresso della scuola, da parte della professoressa Anna Maria Bosco, dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Caporizzi Lucarelli, e dello stesso professor Marco Orsi, che in precedenza aveva avuto la possibilità di conoscere personalmente alunni e genitori interessati dal progetto.